Tutto è pronto per il ritorno in onda di tale e quale show con la sua quarta puntata in cui i vip in gioco dovranno calarsi nei panni di altri cantanti, nel vero senso della parola. . Ancora una volta la regina potrebbe essere Roberta Bonanno che, dopo il successo dei giorni scorsi, quest'oggi potrebbe davvero fare la differenza portando sul palco Katie Perry. Quando lo scontro si fa duro i duri iniziano a giocane ma l'ex di Amici dovrà tenere duro per rimanere salda sul podio della classifica e sperare nella vittoria finale. Alle sue spalle rimane Vladimir Luxuria, un'altra favorita alla vittoria, che questa sera dovrà portare sul palco addirittura Renato Zero. Chicca della serata e di quelle a venire sarà ancora Antonella Elia, ormai sicuramente nella trasmissione per il momento varietà e spettacolo visto che la sua voce non è certo tra le migliori di questa edizione. Chi vincerà la serata? Lo scopriremo solo questa sera, a partire dalle 21,10 su Rai 1 alla corte di Carlo Conti. Edda Hopper. La giuria del programma.Tale e Quale Show 2018, riaprire i battenti della prima serata di oggi, venerdì 5 ottobre 2018. A partire dalle 21,25 circa, Carlo Conti ritornerà in pista con la lunga lista di VIP imitatori, pronti a sfoderare il proprio talento in diretta. Il talent show in chiave VIP, trasmesso sulla rete ammiraglia di Casa Rai, vede anche una giuria composta da tre pezzi da 90, Loretta Goggi, Vincenzo Salenne e Giorgio Panariello. Prodotto da Rai 1, in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato su Your Face Sound Familiar, format originale di Just Music Endemol S. A, il programma è scritto dallo stesso conduttore con Ivana Sabatini, Emanguele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D'Amico e Walter Santino. Le musiche della talentuosa trasmissione, anche questo anno sono affidate al maestro Pinuccio Pirazzoli. Le coreografie dei personaggi ed anche del corpo di ballo invece, sono dirette da Fabrizio Mainini. La scenografia di Riccardo Bocchini, costumi di Simonetta e Innocenti per la regia di Maurizio Pagnussat. Questo anno il programma viene trasmesso dagli studi intitolati a Fabrizio Frizzi, l'amatissimo presentatore tv deceduto a marzo. Le nuove esibizioni dei concorrenti.Tale quale Show 2018, vede mettersi in discussione con le imitazioni, 12 personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Alcuni di loro non sapevano nemmeno di essere in grado di saper cantare così bene, altri invece, hanno un passato da imitatori e trasformisti. Tutte le esibizioni fanno in onda rigorosamente dal vivo e gli artisti, cantano live con il rischio anche di stonature ed imprecisione. Aiutati da un ricchissimo team di stilisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e vocal coach, si preparano nel corso della settimana con le imitazioni. Per quanto riguarda stasera, ecco le esibizioni che vedremo. Antonella Elia vestirà i panni di Sandra Mondaini, Sbiru Nino, Roberta Bonanno dovrà interpretare Kate Iperi mentre Giovanni Vernia imiterà Mick Jagger. E ancora, Gwendalina Tavassi si trasformerà in Cher, Massimo Di Cataldo in Gianni Morandi, Antonio Mezzancella in Justin Timberlake, Vladimir Luxuria in Renato Zero, Raimondo Todar in Rocky Roberts, Andrea Gresti in Lodo dello Stato Sociale, Alessandra Drusiani in Iva Zanecchi, Mario Ermito in Scialpi e Matilde Brandi in Nathalie in Brugno. Tale e quale show 2018, social e streaming.Alla fine di ogni esibizione, i concorrenti in gara riceveranno la valutazione da parte della giuria. Di seguito, proprio i giurati stileranno una classifica. Questi voti, andranno a sommarsi con i vari sfidanti che daranno 5 punti ad un concorrente rivale, oppure potranno anche autovotarsi. Anche questo nuovo anno, non ci saranno eliminazioni. La somma delle due votazioni alla fine di ogni puntata, decreterà il vincitore della serata e verrà stilata man mano una classifica parziale che porterà all'elezione del vincitore finale. Tale e quale show può essere visionato anche in diretta e replica streaming. Per farlo non dovrete fare altro che collegarvi al portale ufficiale di Rayplay e cliccare alla voce diretta. In alternativa, potrete anche scaricare l'applicazione ufficiale per iOS e Android, in modo da guardare il programma anche in mobilità, ovunque voi siate. Spazio anche per i social, tra Facebook, Instagram e Twitter dove potrete commentare con l'attivissima community online facendo seguire i vostri pensieri con l'hashtag, cancelletto tale e quale show. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.